I pazienti trattati in emodialisi e dialisi domiciliare sono 177, di cui 126 pazienti in emodialisi ospedaliera e 51 in dialisi domiciliare. Sono questi i numeri del reparto di nefrologia e dialisi dell'ASL di Teramo, che è dedicato all'assistenza dei pazienti nefropatici e all'organizzazione di eventi scientifici. Tra questi il convegno rivolto a medici nefrologi, internisti e medici di medicina generale, che ha carattere nazionale con la partecipazione dei più illustri nefrologi d'Italia e che è giunto alla 22esima edizione. Centro Italia e forse, ma anche forse in Italia, il convegno che ha una tradizione sicuramente più lunga al di là dei congressi delle società italiane, però come evento locale sì, è una tradizione importante. Perché è così importante? Perché è così importante? Perché ogni anno vengono trattati quelli che sono i topic, diciamo, più innovativi. Un corso di aggiornamento? È un corso di aggiornamento dove vengono trattati gli aspetti, diciamo, più innovativi in ambito sia nefrologico sia dialitico. Non solo, ma ogni anno è sempre più importante anche gli aspetti di natura organizzativa del sistema sanitario internazionale, anche delle parti di nefrologia, alla luce anche dell'evento pandemico che c'è stato. Quest'anno, in particolar modo, nel nostro convegno abbiamo voluto dedicare una delle tavole rotonde a un aspetto estremamente importante che spesso viene sottovalutato, che è quella della comunicazione, dove abbiamo messo insieme le figure mediche e la figura infermieristica, che ha riscosso un ottimo successo tra i partecipanti al convegno.